Ancora Cincerini in isolamento, vuole Donald Taylor, lo trova Jeremic nell'angolo, c'è il taglio da parte di Greg Brunner in profondità poi Taylor da solo, un airball che la generosità di Brunner cerca di rimettere in campo Brunner che si abbatte sui nostri colleghi giornalisti, non deve essere divertente vedere i cento passachini di Greg Brunner arrivati dritti in faccia No, sinceramente non ho invidiato i colleghi, però vorrei sottolineare una cosa, l'airball di Taylor non è sicuramente entrato in partita finora